Nella tua vita ci sono stati dei mentori in particolare? Nella tua vita ci sono stati dei mentori, persone che hanno avuto un grande rilievo? Nella tua vita ci sono stati dei mentori? Quali sono stati i tuoi mentori? Ci sono stati mentori o altri rispetto a quello che hai citato prima? Nella tua vita ci sono state persone che ti hanno guidato, che ti hanno ispirato? Ci sono stati i tuoi mentori? Nella tua storia ci sono stati dei mentori? Ci sono stati dei mentori che ti hanno motivato? Tu hai avuto dei mentori che ti hanno indirizzato o influenzato in maniera positiva? Nella tua vita ci sono stati dei mentori, delle persone che ti hanno indirizzato, guidato, ispirato a fare quello che stai facendo oggi? Nella tua vita ci sono stati dei mentori importanti, ci sono stati dei mentori nel tuo percorso? Nella tua vita ci sono stati dei mentori che ti hanno influenzato particolarmente? Tu hai avuto dei mentori che ti hanno guidato, ispirato? Io ogni 5 anni 7 mentori. E questo è un consiglio che... Di solito ne hai bisogno di 5, però negli ultimi 10 anni ne ho avuti 7 E cerco sempre di averli e di chiamarli ogni 2-3 mesi, chiedo consigli, confrontarmi C'è bisogno di questa mano, di persone più smart di te che ti dicono le loro opinioni sulle cose Prendi, le assimili e poi fai quello che vuoi Per anni ho chiesto chi fossero i mentori Il desiderio era quello di capire cosa le persone ritengono importanti per la propria crescita personale E cosa realmente lo sia Avere un mentore mi spinge ad apprendere Molti mi chiedono chi è che me lo insegna? Nessuno, nessuno ti insegnerà Sei tu che devi andare a imparare E il mentore è la figura di riferimento Il viaggio è fondamentale Il viaggio per vivere qua Il viaggio che mi permette di incontrare tante persone Il viaggio in giro per il mondo In luoghi che non avrei mai immaginato Ma che facendo il mio obiettivo di viaggio diventano possibili Il viaggio in giro per vivere qua Il viaggio in giro per vivere qua